Calcio mercato Juventus, nuova difesa per Allegri, dalla Liga una pista concreta. La Juventus starebbe tentando un restyling in difesa, il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe interessato a un centrale direttamente dalla Liga. L'estate della Juventus inizia sempre di più a spiccare il volo. I bianconeri potrebbero aver dato il via a una rivoluzione, dopo il mancato accesso in Champions League, per via della penalizzazione di 10 punti, e due stagioni che hanno messo in luce le lacune di una rosa appagata dai successi dell'ultimo decennio. Mai come quest'anno, quindi, il calcio mercato potrebbe essere fondamentale per il tecnico Massimiliano Allegri, che vorrebbe piazzare gli esuberi e accogliere forze fresche per il proprio schema tattico. Timothy Weah sembra essere sempre più vicino all'approdo alla vecchia signora, ma il focus della dirigenza della Juventus starebbe andando su un reparto difensivo. Bremmer avrebbe attirato interesse in Premier League, più nello specifico quello del Tottenham, mentre si starebbe ancora cercando di trovare una collocazione per Alexandro e Daniele Rugani, finiti ormai ai margini del progetto. Stando a quanto fatto trapelare da calciomercato, Com, Allegri avrebbe individuato il perfetto acquisto per la propria retroguardia in Liga. La difesa della Juventus avrebbe bisogno di un restyling, nell'attuale sessione di calciomercato. Sono ormai lontani i tempi della BBC, di quel muro difensivo composto da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il secondo è l'unico superstite, ma è entrato in una fase di costante declino e potrebbe lasciare spazio alle nuove leve. Allegri sarebbe alla ricerca di un centrale di piede mancino, che dia il cambio al possibile partente Alexandro. Il brasiliano non ha convinto nemmeno da braccetto della retroguardia a tre e sarebbe stato messo alla porta dalla società bianconera, che starebbe aspettando rilanci dall'Arabia Saudita. La Juventus potrebbe pescare in Liga, un campionato che pullula di difensori di primo profilo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mario Ermoso risponderebbe alle esigenze di Massimiliano Allegri. In forza all'Atletico Madrid, lo spagnolo ha dimostrato di aver capacità in fase di impostazione e di essere un pericolo anche sui calci piazzati, con 4 gol 34 presenze. La Juventus potrebbe puntare fermamente sullo stesso Ermoso, il cui contratto con i Colcioneros cadrà tra un anno.